Ciao amici! Quando ero in piscina io tornavo a casa in scuola la mia mamma mi faceva trovare i succhetti in bechamel a gratinare. L'era minga festa! Più sei amore! Se in disì si fai festa anche adesso! Prendi i succhetti, perciò acqua, sal e dentro i succhetti. Se andrei a fare alla mia maniera, perciò 5 minuti dell'acqua a scutare. Una sfregita, che se no se minga in casa ci ha fatto in mano, io togli una rondella. La basilica è bella piena che metto con sal, pever e olio una bella ruggata ed entra in forno a 200 gradi per il tempo che basta. In tanto che veniamo pronta, facciamo la bechamel latte, di terra, sal, pever, una smuscata e farina. Sul fuoco e sotto a ruggare finché la veniamo pronta. Se fosse un stadio ben contentato, rungeremo a mangiare adesso. Invece, preparo una bechamel. Succhetti, bechamel. Abbiamo un po' di succhetti e quattro gioco la bechamel. Una bella spolverata dei formaggi che bisogna sgrattare. Ed entra in forno a gratinare per un 2 minuti. Via il cerchietto. Inci, in buono anche i succhetti. E anche in che ci ci sono domani. A presto. A presto. Paura.